Ciao sono la dottoressa Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi, dei profilattici, o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso, a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. 36 preservativi innovativi Lelo X, 54 mm Lelo X. Il nuovo preservativo Lelo. Quando la tecnologia Lelo incontra l'innovazione e il risultato è un prodotto dal carattere avanguardistico. Lelo X, una nuova idea di preservativo nasce dal marchio svedese noto per l'attenzione al dettaglio e alla qualità. Lelo X apre le porte di Lelo con Don se lo fa, in pieno stile Lelo, all'insegna della tecnologia e dell'innovazione. Dopo 70 anni dalla creazione del primo preservativo, Lelo annuncia di uscire con un preservativo che rivoluzionerà l'idea stessa di preservativo. Non si tratta di innovazione. Ciò che è cambiato, afferma Steve Thompson, responsabile marketing Lelo, è il processo di progettazione e produzione del preservativo rimasto invariato negli ultimi decenni. Sarebbe proprio questo il motivo per cui le nuove generazioni usano non molto volentieri il profilattico. Tutti sanno che previene malattie sessuali e gravidanze indesiderate ma non tutti sono disposti ad usarlo. E questa la sfida che Lelo ha deciso di intraprendere con Lelo X. Perché Lelo X è un preservativo rivoluzionario. Ci sono voluti tre anni di ricerche e quattro di test per arrivare all'intuizione madre. Ciò che doveva cambiare non era il materiale ma la struttura. Ed è proprio la struttura di X a renderlo così straordinariamente rivoluzionario. La forma esagonale delle 350 piccole parti di cui è realizzato ogni preservativo X lo rende particolarmente resistente ed altamente modellabile ad ogni forma. D'altronde, come sottolinea il team del brand svedese, non è un caso se gli alveari o le squame dei serpenti hanno forma esagonale o se il materiale più resistente al mondo, il grafene, è anche il più sottile. Quali sono le caratteristiche di Lelo X? Resistenza. La struttura esagonale ispirata a grafene conferisce al preservativo una resistenza extra. X è l'unico preservativo al mondo che combina una rete X di 0,055 mm con pannelli ultra sottili di lattice dello spessore di 0,045 mm, per un risultato che è allo stesso tempo, incredibilmente, sottile e robusto. La struttura esagonale di Lelo X fa in modo, inoltre, di distribuire il carico eccessivo su tutta la struttura e quindi su tutta la lunghezza del condom, evitando così lacerazioni. Massima sensibilità. Lo spessore dei pannelli esagonali utilizzati è di 0,045 mm, tra i più bassi di tutti i preservativi sottili finora realizzati. La superficie esagonale così realizzata ti restituisce una maggiore sensibilità ed una sensazione di intimità e comfort mai provate prima. Aderenza perfetta. La textura interna è cosparsa di puntini e rilievi per migliorare la presa e aumentare l'aderenza. Una struttura interna a rilievo di questo tipo riduce la possibilità di sfilamento del preservativo, migliorando le percezioni di piacere. La textura esagonale, invece, permette al preservativo di adattarsi perfettamente alle diverse forme del pene. Sembra che sia stato realizzato apposta per ogni forma e dimensione. Il mondo è cambiato. Il preservativo anche. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato.